Andrea Impicciatore, attaccante del Termoli 2016, decimo sigilo stagionale su 30 gare, un bottino niente male, in doppia cifra, però non è servito per raggiungere quantomeno la finale play-out, c'è ancora un'altra finale da giocarsi, peccato perché fin quando eravate in 11 siete giocati a viso aperto. Sì, purtroppo c'è stata una piccola deviazione del portiere, purtroppo abbiamo giocato in 10 tutto il secondo tempo, quindi è andata così, però ora non demordiamoci, andiamo a giocare lo spareggio per accedere ai play-out, vediamo dove si farà e andiamo lì a vincere ovviamente. Un attaccante tarea di rigore sei tu, hai bruciato tutti sul tempo in occasione del gol, poi hai fatto un grandissimo lavoro per tutta la partita fin quando sei stato in campo, sfortunato questo 2016. Sì, sì, ovviamente ogni partita diamo il massimo, stava andando bene, poi ovviamente il calcio è anche questo, è fatto di episodi. Domenica ci sarà questo spareggio, dovreste essere tutto al completo, tranne Paolo Recchi che è stato espulso, perché era una giornata di squalifico. Sì, sì, ci sarà bisogno ovviamente dell'apporto di tutti, perché ovviamente anche i campi faranno la differenza in questa partita, sicuramente sarà una partita secca e quindi speriamo di andare a far bene.